Abruzzesi che rinunciano alle cure, tantissimi, 120.000 secondo l'ultimo report GIMB, in tutta Italia sono 4 milioni e mezzo. Una crisi del personale sanitario senza precedenti e livelli essenziali di assistenza che segnano una netta differenza tra nord e sud, come la mobilità passiva. Anche sull'erogazione delle prestazioni il dato abruzzese è negativo e allora il centro-sinistra spinge sull'acceleratore proponendo poli di eccellenza negli ospedali più piccoli, un DEA di secondo livello e ora anche una legge sulla medicina integrata. Approderà in commissione e in consiglio entro febbraio ed è sostenuta da tutti i consiglieri dell'opposizione di centro-sinistra e l'idea è quella di incrementare i fondi per l'Università d'Annunzio con 50.000 euro all'anno destinati al Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento e quindi alla ricerca e sostenere terapie integrate in particolare per l'ospedale di Ortona, eccellenza per la chirurgia senologica. Il presidio si è classificato recentemente al sedicesimo posto su 447 breast unit italiane per volume di interventi di chirurgia oncologica della mammella. 1.200 gli interventi effettuati in tutto l'Abruzzo lo scorso anno. Primo firmatario della proposta di legge Antonio Blasioli del PD. È una legge che stanzierà dei fondi, che servirà all'Università e all'ospedale di Ortona, che è un'eccellenza del nostro territorio, per fare in modo che venga fatta più ricerca sull'attività fisica adattata, che è un'ottima attività che aiuta soprattutto tantissime donne ad evitare il rischio della recidiva. E il capogruppo del patto per l'Abruzzo, Luciano D'Amico, sfida il presidente Marsilio ad approvare una legge che è per tutti gli abruzzesi addetto. Sarebbe paradossale non condividere un progetto che, prima di avere un colore politico, ha soprattutto la cura dell'interesse degli abruzzesi. Viene proposto dal patto per l'Abruzzo, che ha intenzione di fare un'opposizione estremamente propositiva, ma l'obiettivo, e il testo della proposta di legge lo dimostra con ogni evidenza, l'obiettivo è prendersi cura delle esigenze degli abruzzesi. E' un progetto di legge sulla medicina integrata, che viene in particolare in... Bene, dal 2017 la chirurgia senologica di Ottona poteva contare sull'Abruzzo.